A Giarre tornerà a riunirsi martedì sera il Consiglio Comunale. Il civico consesso giarrese è chiamato nuovamente a deliberare i tre piani di lottizzazione rimasti in giacenza. In queste ore però stanno maturando tante incertezze, perché pur non tornando le proposte in commissione, diversi consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione hanno chiesto infatti un parere al dirigente della quarta area tecnica venerando Russo. se in materia di convenzioni edilizie e in queste fattispecie specifiche sia effettivamente il Consiglio Comunale a doversi esprimere. Non sembrano difficoltà insormontabili, ma questioni che comunque vanno chiarite prima di arrivare in aula martedì sera.